Abbiamo commissionato un project work ai ragazzi di GEMA dedicato a un progetto che per noi è molto importante il lancio del nuovo Scrambler in particolare si trattava del lancio su Roma e provincia che quindi è la nostra area di riferimento dedicata a un target di under 35 Le opportunità sono sostanzialmente legate al target infatti Scrambler si rivolge ad un nuovo target abbiamo fatto un'analisi del target prendendo in considerazione la grande mappa di Sinottica Il progetto è stato impegnativo mi sono proposta come project leader del gruppo perché mi interessa molto la parte dell'analisi e dello scheduling e l'ho presa come un'opportunità di mettermi alla prova Abbiamo pensato che questa vetrina molto importante fosse il luogo ideale per lanciare il nostro contest L'evento avrà luogo più o meno alla metà del mese, il 18 Ci sono stati comunque degli scontri, delle critiche costruttive da parte degli altri membri appunto del gruppo ma siamo riusciti comunque ad ottenere un ottimo risultato Abbiamo deciso di organizzare un parte esclusivo presso uno dei locali più in voga e più conosciuti dai giovani romani Nel project work ognuno di noi ha messo in pratica le proprie capacità ognuno si è ritagliato un ruolo Abbiamo lavorato molto bene in gruppo Nel complesso è un'esperienza veramente molto molto bella e formativa dal punto di vista professionale ma secondo me anche dal punto di vista umano Il filo conduttore di tutta questa campagna è essenzialmente l'idea di customizzazione i colori scrambler e in terzo luogo la nostra idea è stata quella di creare un contest di riferimento L'ultima fase del project work è stata particolarmente stimolante mi sono sentito a mio agio all'interno del gruppo si era creato un giusto equilibrio una giusta ripartizione delle competenze e delle funzioni all'interno del gruppo e ritengo che anche nella presentazione del progetto finale abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi che ci eravamo prefissati veramente molto creativi sia dei vecchi che tutta la campagna di comunicazione quindi personalmente sono più che soddisfatta nel senso c'è tanta creatività sia dedicata al target sia per la parte artistica sia per quanto riguarda anche l'idea di utilizzare locali non convenzionali come appunto era stato richiesto nel disco veramente complimenti troppo un bel progetto